Si attesta ancora attorno al 18% il numero dei positivi rispetto ai tamponi effettuati in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 642 nuovi casi di età compresa fra i cinque mesi del più piccolo e i 95 anni del più adulto, casi che emergono dall'analisi di 3576 tamponi. Oltre uno su sei ha un'età inferiore ai 19 anni e la maggior parte arriva dalla provincia dell'Aquila. Sale anche il numero dei deceduti, 11 nelle ultime ore di età compresa fra i 73 e i 92 anni, 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti. Il bilancio totale arriva così a quota 690 morti. Parallelamente aumenta anche il numero dei dimessi e dei guariti più 165 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 13.499 più 465 rispetto a ieri. Cresce, ma non in maniera netta, la pressione sul sistema sanitario ed ospedaliero con 571 pazienti più 6 rispetto a ieri ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Stabile invece il numero delle persone in terapia intensiva, fermo a quota 59, mentre gli altri 12.869 più 459 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Da marzo ad oggi sono complessivamente 19.823 i casi di positività al Covid-19 registrati in Abruzzo. Del totale 6.233 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila più 244 rispetto a ieri, 3.796 in provincia di Chieti più 58, 4.072 in provincia di Pescara più 40, 5.336 in provincia di Teramo più 290, 202 provengono da fuori regione più 5 rispetto a ieri e 184 in aumento di 4 unità rispetto a ieri per i quali sono in corso le verifiche sulla provenienza.